Buongiorno, buon pomeriggio. In questo video vi parlo di Montale, che è stato un poeta, è stato uno scrittore, traduttore, giornalista, critico musicale e letterario, nonché premio Nobel per la letteratura. Nasce a Genova nel 1896 da una famiglia agiata, da una famiglia borghese. Il padre infatti era comproprietario di una ditta di prodotti chimici, quindi indirizza il figlio verso un istituto tecnico affinché possa proseguire fondamentalmente il suo lavoro, anche se poi ovviamente Montale sarà un appassionato di letteratura, sarà un autodidatta e diventerà un grandissimo poeta. Importante del fulcro, insomma, della prima parte della sua vita sarà non solo Genova, non solo l'educazione scolastica, ma anche le vacanze e la casa al mare che la famiglia aveva Monterosso nelle Cinque Terre. Infatti, soprattutto nella prima raccolta di Ossi di Seppia, il panorama e il paesaggio del mare della Liguria ritorna spesso. Fin da subito, fin da giovane, dimostra questo senso di inquietudine, di un gusto per il paradosso, l'amore per la misura e la compostezza. Infatti avrà sempre una vita sobria, nonostante l'io lirico ovviamente sia forte, sia presente in tutta la sua produzione letteraria, però non lo fa mai per esaltare se stesso alla maniera di dannunzio, ma lo fa semplicemente per usare i propri magari malesseri, no? Il proprio disagio interiore e renderlo universale. Dicevo appunto che ha avuto una formazione da autodidatta, ha letto diversi libri, di vedi letterari, ma anche filosofici. Importante è lo studio che ha fatto di Nietzsche e di Schopenhauer, che sono due filosofi in realtà che hanno caratterizzato e influenzato tutti i poeti fondamentalmente fra la fine dell'Ottocento e poi l'inizio del Novecento. Fin da subito inizia a scrivere le poesie, anche se poi viene arruolato durante la prima guerra mondiale. Il conflitto mondiale in realtà non è incisivo, non determina particolarmente la sua produzione letteraria, scriverà un'unica poesia sul conflitto, in quanto in realtà è più interessato alla condizione umana in generale e non tanto quella legata alla guerra. Importantissimo sarà l'incontro con Pietro Gobetti nel 24 e che aiuterà a pubblicare l'anno successivo, cioè nel 25, la sua prima raccolta Ossi di seppia. Sempre nel 25 in realtà va a firmare il manifesto degli intellettuali antifascisti. Inizialmente non lo compromette più di tanto, ma nel 38-39, quando il fascismo diventa sempre più importante, farà fatica a trovare lavoro e quindi andrà a incidere sulla sua vita, sulla sua carriera, ma non cambierà mai idea, in realtà rimarrà antifascista, sempre. Negli anni quindi, insomma, dei primi, dei vent'anni, possiamo dire, degli anni venti, si trasferisce a Firenze, che è un grande centro culturale, importantissimo. Qui diventerà direttore del gabinetto scientifico e letterario Viseux e ci lavorerà fino a quando, fondamentalmente, nel 38-39, appunto, a causa della sua scelta di essere antifascista, in realtà non troverà più lavoro. Sempre a Firenze, importantissimo, diventerà la frequentazione presso questo caffè letterario Giubbe Rosse e collabora anche con la rivista intellettuale Solaria. Sempre a Firenze, in realtà, incontra questa giovane studentessa americana, Irma Brandeis, è una studiosa di Dante, è di origine ebraica, ha una relazione con questa ragazza, con questa donna, ma poi si interrompe nel 39 quando vengono emanate le leggi razziali e lei, quindi, sarà costretta a ritornare negli Stati Uniti. Insisterà parecchio Irma Brandeis affinché Montale lasci l'Italia e la segua, però questo non avverrà mai e il legame, in realtà, che Montale ha avuto per Irma Brandeis dura tutta la sua vita. Infatti, la troviamo in alcune poesie di occasioni e la bufera con lo pseudonimo di Clizia, che è una figura salvifica molto importante per il poeta. Nel 39, in realtà, inizia anche questa relazione con Drusilla Tanzi, che poi diventerà sua moglie. Questa donna lo accompagnerà tutta la sua vita, lei morirà prima di Montale e anche lei sarà parte delle poesie e del poeta con il nome, con il soprannome di Mosca. Lei, infatti, è miope, ha una grave miopia, vede a fatica, ma sarà quella all'interno della coppia che in realtà vedrà tutto, saprà tutto prima del poeta e è presente principalmente nella raccolta che si intitola Satura. Continua a scrivere, in realtà, appunto, dopo Ossi di seppia scriverà La bufera e altro. Il titolo fa riferimento a La bufera, che è la guerra, in realtà, la Seconda Guerra Mondiale, che si è abbattuta sull'Europa, ma anche poi la bufera interiore. Gli anni della Seconda Guerra Mondiale sono anche gli anni in cui, appunto, lui è compromesso in qualche modo perché è antifascista ed è doppiamente compromesso perché ospita due grandi amici, due grandi letterati come Carlo Levi e Saba, che in realtà stanno fuggendo dal regime fascista e li ospita e gli dà protezione. La sua scelta di essere antifascista continua anche nel 1945, partecipa, aderisce al Comitato di Liberazione Nazionale e alla Resistenza. Fa dei lavori, anche la collabora, inizia a collaborare per il Corriere della Sera, in cui farà il giornalista, ma farà anche il critico musicale e poi farà una serie di viaggi sia in Europa sia negli Stati Uniti, andando poi anche a New York a tenere delle conferenze. Negli anni 60, nel 61, riceverà una laurea ad honorem presso la Facoltà di Lettere a Milano e terrà nel 65 invece un importante discorso su Dante e nel 75 riceverà il premio Nobel per la letteratura e qua tiene un discorso che si intitola è ancora possibile la poesia e va a elencare ovviamente in maniera, con un lucido pessimismo che l'ha sempre accompagnato in tutta la sua vita, la condizione umana e anche sociale in cui vive, in cui si trova, quindi gli anni 70 con questo boom economico, con questa massificazione, grandi pubblicità, si chiede giustamente se la poesia possa avere ancora un motivo di esistere, un luogo, ovviamente poi la risposta è sì, in quanto lui continua a scrivere e pubblicherà, satura, l'ultima sua raccolta di poesie dopo in realtà un periodo molto lungo di 15 anni in cui non ha scritto, però c'è questo grande distacco dal mondo, dalla civiltà di massa che critica pesantemente. Morirà nel 1981 e riceverà dei funerali solenni a Milano a cui partecipa anche il Presidente della Repubblica, Pertini. Per tutta la sua vita, per tutta la produzione letteraria montale ha avuto un atteggiamento di pessimismo che si trova sempre, in realtà è il pessimismo dei poeti, anche in questo caso il suo, è questo scetticismo legata alla società e al desiderio in realtà di conoscere e di riuscire a interpretare la realtà che lo circonda. Cioè viene evidenziato all'interno delle sue poesie in realtà questo disagio esistenziale molto forte, questa profonda disarmonia che non colpisce soltanto montale ma in realtà colpisce tutta l'umanità che vive in questo senso di inadeguatezza e questo in realtà diventerà un punto di forza attraverso il quale poter visionare la condizione umana e sicuramente un'idea che viene rafforzata anche con la lettura dei pensatori pessimisti come abbiamo visto Nietzsche e Schopenhauer che rinforzano questa sua idea. Un'altra lettura molto importante è Eberson che in realtà si occupa principalmente della durata del tempo che sia soggettivo in quanto è legato a una durata interiore che si oppone all'oggettività di una scansione più scientifica, più lineare e matematica. C'è questo pessimismo che è legato a questa idea di disagio, di mancanza, di armonia ma c'è l'imprevedibilità, il miracolo, cioè quello scarto che inaspettatamente infrange il determinismo dei fenomeni e mette in collegamento gli esseri umani con un sistema di armonia, qualcosa che genera un varco che permette agli esseri umani di passare da questo stato in cui in realtà vive in disarmonia, ha uno stato di armonia e quindi in realtà tutta la poesia di Montale è alla ricerca della salvezza che è l'armonia appunto che però è qualcosa di imprevedibile, si rappresenta a noi come se fosse un miracolo e di base poi è la poesia dei limoni, una delle poesie più belle e più importanti sicuramente che lui ha scritto perché i limoni sono appunto questo scarto, questo varco che determina e dà la possibilità agli uomini di entrare in armonia con se stessi, con il resto dell'umanità. La poesia I limoni fa parte appunto della raccolta Ossi di seppia, lo stesso titolo Ossi di seppia rimanda uno al mare perché è proprio delle zone di mare questo osso di seppia, due allo scarto, è qualcosa che avanza, che rimane dalla seppia ed è lo scarto che anche il mare rigetta e lascerà sul bagnosciuga. Le poesie vengono scritte fra il 21 e il 22 per poi essere raccolte e pubblicate nel 25. I limoni ha sicuramente un carattere programmatico questa poesia e presenta il suo e il proprio stile che è subito in contraposizione con la poesia aulica dei poeti laureati quindi pascoli, carducci e soprattutto d'annunzio, d'annunzio soprattutto che si circonda di piante con dei nomi altisonanti mentre lui in realtà va proprio a cercare i limoni, una pianta bellissima colorata, profumatissima ma molto più semplice e non così forse nobile come altre che vengono menzionate e c'è ovviamente poi lo sfondo del mare, il paesaggio è quello e i limoni sono nelle ultime strofe il varco, quella possibilità immediata e momentanea e inaspettata di darci la possibilità di vivere in un sistema di armonia. Ha sempre quindi questa visione di una poesia più semplice in contrasto con appunto i poeti laureati ma così anche d'altro canto la poesia, il suo modo di fare poesia vuole avere una visione aristocratica della letteratura cioè visto che viviamo in una società di massa con tutto questo consumo la poesia sicuramente fa fatica a trovare spazio ma rimane sempre qualcosa di unico, di elitario, di incredibile e questa idea in realtà la ritroviamo soprattutto nell'ultima pubblicazione di Satura dove lo stesso titolo in realtà è un titolo che rimanda alle satire latine e quindi non è chiaro sicuramente a tutti. Un altro concetto importantissimo della poesia di Montale è il correlativo oggettivo. In alcune poesie spesso il mare di vivere incontrato per esempio prima ancora di spiegarci un'emozione ce la illustra attraverso l'uso di oggetti quindi l'oggetto ci fa capire il significato, l'emozione che Montale ci vuole dire e prende in realtà questo stratagemma dalla letteratura angloamericana e soprattutto da Elliot che ha studiato, che conosce e quindi usa proprio vantaggio questo, proprio vantaggio all'interno delle poesie usa questo, questa figura retorica per poterci spiegare esattamente che cosa ci vuole, ci vuole dire e l'ultima cosa su Montale appunto tutta la sua vita come diceva all'inizio è legata a un senso di umiltà tanto che nelle interviste che lascia verso gli ultimi anni ormai della, della sua vita dice bruciate tutte le mie opere, bruciatele, da un lato ovviamente c'è qualcosa di provocatorio dall'altro anche il fatto che la sua vita in realtà era importante ai fini della poesia non vuole una glorificazione, un'esaltazione della propria vita personale così come era avvenuta con D'Annunzio che è proprio lo spartiacque poi della letteratura del novecento che avviene dopo di lui, spero che il video vi sia stato utile, buono studio!